Antonio Bruno, buongiorno. Capo gruppo in Consiglio Comunale di Federazione della Sinistra, facciamo un po' il punto sulla delibera di aggregazione AMIU-IREN. Quando è che andrà in votazione nuovamente? Io spero mai, nel senso spero che la Giunta si renda conto che il Consiglio Comunale ha negato il mandato a trattare con IREN e quindi ha invitato a scegliere altre strade che esistono e ci sono, però insomma se la porta non la porta dentro fine marzo e inizio aprile, cioè in occasione del bilancio, comunque poco prima dell'approvazione del bilancio del prossimo anno. Si può definire un atto di forza questo però? Un grande sgarbo istituzionale, cioè vieni in Consiglio Comunale, chiedi un mandato, non te lo diamo e vuole riportare questa cosa veramente da un punto di vista istituzionale una grande ferita. L'8 febbraio in Consiglio Comunale c'è stata un'informativa sui risultati della raccolta differenziata spinta che è stata fatta a quarto alto e con le degli ometti. Come mai non si è saputo nulla? Ma probabilmente AMI non ha troppo l'interesse, o il Comune non ha troppo l'interesse a pubblicizzare un'esperienza che pur con tutti i limiti che sono emersi, la necessità di migliorarla, eccetera, eccetera, ha portato in pochi mesi la raccolta differenziata all'88%, quindi un risultato altissimo, quindi significa che è possibile arrivare a dei livelli altissimi, quelli che IREN non vuole arrivare perché comunque vuole utilizzare parte dei rifiuti anche per i suoi impianti fuori Liguria. Comunque hanno un concetto della gestione dei rifiuti ormai datato e quindi probabilmente chi vuole fare l'aggregazione con IREN non ha l'interesse a pubblicizzare troppo questo risultato che è veramente clamoroso, perché non è che in quel quartiere, così come in altri quartieri di Genova, ci siano tutti ambientalisti, c'è tutta gente che non fa i rifiuti, c'è tutta gente che mette le mani nella spazzatura quando vede una puttina di plastica e va a metterla nella campana gialla. È un quartiere come tutti gli altri, eppure ha avuto in pochi mesi dei risultati eccezionali.